Ciao! Eccomi qui in un sito molto particolare, sempre a Sedona, questa roccia si chiama Bell Rock ed è una delle rocce più potenti a livello di Vortex. Finora ho provato due punti che mi sono stati indicati dagli esseri di luce ed entrambi avevano due energie completamente diverse. Un punto in cui mi trovo seduta ora ho lavorato molto forte sulla spina dorsale e sulla testa, come se stesse riequilibrando sia la postura che l'energia, la modalità di scorrimento dell'energia all'interno della spina dorsale. Molto molto interessante, vediamo cosa succederà nel prossimo punto che dovrebbe essere un po' più in alto in cima alla montagna. A dopo, un abbraccione forte. Ovviamente tutte le volte che ricevo una guarigione non è solo per me ma è per te e per tutte le persone che avranno piacere di vedere questo video e di condividere questa energia. Un abbraccio, ciao!